Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla strada regionale 2 via Cassia, tratto chiuso per lavori al Ponte del Paio al chilometro 152 e 500 tra Radicofani e Abbadia San Salvatore. Sulla statale 67 Tosco Romagnola, senso unico alternato per lavori tra i chilometri 91 e 200 e 91 e 400 tra Abbadia Ripoli e Le Sieci. A Firenze per i lavori alla linea 3 della tramvia in via Pisacane è tratto chiuso tra via Mazzoni e via Corridoni fino al 30 settembre. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!